Una domanda che mi viene fatta molto spesso è ma come si diventa programmatori freelance? Devo avere la partita IVA, dove trovo i clienti? Insomma è un discorso molto complesso. Oggi cercherò di mettere un po' di ordine nel percorso da fare, sia per chi già lavora come dipendente, sia per chi non sta lavorando o ha il primo lavoro. Quindi iniziamo. Io come sempre sono Giuppi, bentornati. Dunque, torniamo con i nostri bellissimi foglioni, il famoso foglione. Quindi oggi cercherò di portarvi in questo schema che vedete un po' quali sono le varie fasi nel diventare freelance. Ovviamente è un discorso molto complesso questo. Io cerco di trasmettere un po' quella che è la mia esperienza e quella di colleghi freelance che negli anni ho conosciuto. Ma se vi interessa capire meglio tutti, ma proprio tutti quelli che sono i passaggi nella gestione di un'attività freelance, stasera, oggi 2 novembre, se andate sul mio sito giuppi.dev tra i corsi, vedrete che c'è lavorare come programmatore freelance, si terrà stasera alle 20.30 una masterclass proprio dedicata a questo. Ho diviso la masterclass in tre parti. La prima parte, che anche toccheremo un minimo in questo video, che riguarda proprio il diventare, come crearsi un brand, come trovare i clienti, anche se appunto nella masterclass andremo nel dettaglio su tutti i piattaforme, eccetera, quello che sono i posti in cui trovare i clienti. Poi ci sarà una parte sul come guadagnare, che è molto molto importante, perché proveremo a vedere quanto farsi pagare, che è sempre un argomento molto complesso, come si scrive un contratto, porterò degli esempi di contratto che ho fatto io negli anni, la parte pratica della partita IVA, quanto si paga, tutte le cose diciamo un pochettino più delicate dell'essere freelance, e nell'ultima parte invece la gestione pratica. Una volta che si diventa freelance, come va? La masterclass si terrà appunto stasera su Zoom, se venite là e potete farmi domande, sarà molto molto bello, ma se recuperate il video più avanti, vi interessa vedere comunque queste e le altre masterclass, come vedete sul sito, con l'abbonamento da 25 euro, avete accesso a un sacco di altre cose. Abbiamo concluso adesso il corso su Next13, il corso React per principianti, una masterclass su TypeScript, e sta arrivando anche la masterclass sui nomadi digitali. Saranno grosse novità, ma ve le racconterò più avanti, quindi vi aspetto. Riprendiamo da dove eravamo rimasti con il nostro schema. Dunque, partiamo dal dipendente. Un dipendente ha un punto di partenza specifico, nel senso ha comunque delle entrate, quindi ha già soldi, ma quello che gli manca è il tempo, perché comunque sta già lavorando. Quindi in queste fasi di preparazione a quella che può essere un'attività da freelance, ha questa situazione di partenza. Questo in realtà, il fatto per esempio di avere delle entrate, non è prettamente positivo, cioè ovviamente positivo, ma rende più difficile il passaggio, perché se avete delle entrate probabilmente avete delle spese, come ero io, e quindi non potete da un giorno all'altro licenziarvi e vedere come va. Quindi bisogna un attimo capire quali possibilità avete. Volendo semplificare, si possono avere due possibilità. La prima è quella di licenziarsi. Quindi Fired ha con 12 mesi, consiglio, non 6 ma 12 mesi, di soldoni. Cosa vuol dire questo? È quello che ho fatto io. Mi sopprima di licenziarmi per potermi dedicare appieno alla carriera del freelance, a cercarmi clienti, a tutto quello che riguardava il mondo freelance, ho messo da parte abbastanza soldi per sopravvivere 12 mesi senza entrate. In realtà, secondo me, non è la cosa più sensata da fare, perché questo vi metterà l'ansia di non avere entrate. L'unica alternativa che avete è cercare di avere più tempo, quindi extra time. In questo modo, quello che dovreste cercare di fare è ritagliarvi il tempo, quando non lavorate, ovviamente, per raggiungere le prossime fasi, che adesso vedremo. Ed è molto difficile, soprattutto se avete una famiglia. Io lo capisco. Capite bene che quindi si ha una situazione in cui sto semplificando con due scelte un po' drastiche. Nella prima vi licenziate perché avete messo i soldi da parte, nella seconda cercate il tempo per preparare tutta quella che è la parte di competenze, eccetera, eccetera, che vedremo dopo. Ma sicuramente il poter avere un lavoro vi dà tutta una serie di sicurezza in più, vi costringe a sacrifici in più dal punto di vista del tempo, ma è sicuramente la scelta migliore, soprattutto se avete delle spese, famiglie, eccetera, eccetera. Almeno questa è la mia idea, il mio consiglio. Come parte invece chi non ha il lavoro? Beh, chi non ha il lavoro parte con skill, punto di domanda. Ha delle skill? Ha già delle competenze? Oppure deve iniziare? Ho iniziato da poco, quindi uno junior? Questo è un fattore che, come vedremo, è molto importante. E anche in questo caso, soldi? Anche qua mettiamo un bel punto di domanda. Questo ovviamente vi influenzerà poi nella scelta del percorso da far dopo, perché se avete bisogno di soldi, ovviamente potreste cercare di accelerare e trovare clienti, ma potreste non precludervi altre scelte, come vedremo adesso. Questo perché nella fase di preparazione le cose da fare sono due. Studiare, ovviamente, e con studiare non intendo studiare e basta. Ovviamente si studia sempre nella carriera del programmatore, ma come prima e come primo approccio, se avete proprio poche skill, potreste dedicarvi allo studio, iscrivendovi a un corso, a una scuola, che magari possa essere anche full time intensiva. È una cosa che molto spesso vedo fare. Ovviamente non è sufficiente, però se avete proprio un grosso problema, potreste decidere di dedicare una parte del tempo semplicemente allo studio. L'altra, ahimè, è diventare dipendenti. Dico, ahimè, ma in realtà questa potrebbe essere una scelta, nel senso, nel momento in cui vi decidete, se siete qua, forse volete provare a diventare dei freelance, nulla vieta di cercare un lavoro da dipendente che magari potrebbe essere più facile da ottenere, magari no, ma perché non aggiungerlo nella ricerca per permettervi di risolvere il problema soldi. Ovviamente da questo punto in poi si passa al ramo superiore. Quindi poi cosa fai? Ti licenzi perché metti i soldi da parte, potrebbe essere un'idea, oppure mentre lavori come dipendente, inizia a costruirti, come vedremo nelle fasi dopo, quella che può essere la tua figura da freelance. Arriviamo quindi alla fase 2. La fase 2 che è la fase centrale, ovvero cosa bisogna cercare di fare per diventare freelance, quali sono i punti cardine da coltivare, cercando di avere il tempo per farlo e le competenze per farlo. In realtà la prima cosa sono proprio le competenze. Torniamo sulle skill. Perché questo? Aggiungiamoci una S, va. Perché un conto è imparare la programmazione, e quindi magari se iniziate da zero avete imparato le basi. Un altro conto è avere le competenze che sono necessarie per essere un freelance, che non sono le stesse richieste da un dipendente. In alcuni casi sì, però in molti altri casi viene richiesta magari, per esempio, se pensiamo allo sviluppo web, potrebbe essere richiesto di avere una visione a 360 gradi dello sviluppo, se meramente andiamo a sviluppare un'intera piattaforma web. Sicuramente però è molto importante avere delle skill laterali, quindi se si è verticale su qualcosa da freelance bisogna essere in grado di switchare e avere comunque idea di come interfacciarsi con altri ambiti, altri settori, perché magari spesso si ha molta più autonomia nel dover fare le cose, come vedremo. Quindi è molto importante avere più skill, ed è molto importante capire quali sono queste skill, che banalmente quello che farei io, che ho fatto io, è costruirle attorno alle proprie skill principali. Quindi se siete sviluppatori web, andate a cercare di aumentare il vostro raggio. Però siete degli sviluppatori, non so, Rust, e volete essere dei freelance molto verticali su Rust, magari tutto quello che riguarda un'applicazione sviluppata in Rust, magari anche dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista DevOps, non lo so, però tutto quello che riguarda il contesto è comunque da sviluppare, perché avrete bisogno di essere più autonomi in questo. E' un modo molto importante per capire anche dove andare a parare, quello di conoscere il mercato. Conoscere il mercato vuol dire capire che cosa cercano le aziende, ma soprattutto quali da freelance possono essere le migliori occasioni per cercare di ottenere più lavori. Quindi se siete degli amanti, adesso non lo so, di PHP, per esempio, faccio un esempio banale, ovviamente conoscere WordPress potrebbe aprirvi le porte e avere delle entrate più facili. Stessa cosa al contrario, conoscete solo WordPress? Ok, è molto difficile perché appunto dovete sviluppare magari doti da programmatore che non avete, ma se invece siete in quel misto, ma avete sempre costruito in WordPress, ecco che switchate magari verso il mondo, lo so, Laravel, quindi sempre PHP, potrebbe aprirvi ad altre commesse. Quindi il mercato vi fa capire anche cosa studiare e cosa viene ricercato di più come freelance. Come capire dov'è questo mercato? Appunto dando a vedere tutte le piattaforme in cui puoi cercare fisicamente lavoro a clienti che vedremo nella fase successiva. Altra cosa fondamentale da freelance è sviluppare un proprio brand. Mi dispiace ma devo usare la parola brand, personal branding. Questo perché se da dipendenti siete abituati ad avere un curriculum, quindi ho un curriculum, lo mando alle aziende, fine, probabilmente poi avete iniziato a sviluppare qualcosa in più, quindi avrete un GitHub, avete delle repository di qualche tipo, magari siete stati più coraggiosi, avete creato un vostro sito portfolio. Tutto questo da freelance diventa fondamentale e unico perché chi si affida a voi vuole sapere come lavorate. Magari non ci farà tutti quei colloqui, magari sì, ma magari non vi farà tutta quella serie di colloqui che sono richiesti a un indipendente, ma vorrebbe affidarvi un lavoro, vorrebbe sapere che se voi siete un esperto di questo potete farlo, quindi dovete dimostrarlo. Ma cosa fondamentale del branding è far sapere che siete freelance. Questa è una cosa che spesso viene, soprattutto all'inizio, viene un pochettino messa così, viene dato per scontato. Io sono un programmatore, allora faccio un branding sul fatto che io sappia programmare. Ma se volete lavorare come freelance dovete far capire di essere disponibili a lavorare, di essere autonomi nel lavorare. E questo si fa in tantissimi modi. Lo vedremo meglio nella Masterclass, ve lo ricordo, perché ci sarebbe un sacco da dire qua. Ma bisogna essere in grado di comunicare, quindi attraverso il canale più idoneo, il blog, YouTube, come faccio io, ci sono mille modi per fare branding. Ma voi dovete essere in qualche modo autoritari quando si tratta dell'argomento su cui volete vendervi. Quindi non basta avere il curriculum, così come non basta neanche avere il tab, bisogna essere in grado di raccontare un po' quello che si fa. Poi ovviamente tutto dipende dall'ultimo punto di questa fase. L'ultimo punto è, secondo me, alla fine, nella pratica, la cosa più importante di tutte, che è, sullo di tamburi, la network, la propria rete. Eh, se metto anche la cap, è finito. Cosa si intende per network? Per network si intende creare una rete di contatti. Cos'è una rete di contatti? È lasciare il bigliettino in giro, è avere un sacco di amici, è tutto. È avere un sacco di amici? Sì, avere un sacco di amici. Avere un sacco di conoscenze. Avere un sacco di conoscenze cosa vuol dire? Non essere raccomandato, ma conoscere altri sviluppatori che lavorano in aziende. Conoscere le aziende. E come si fa a conoscere le aziende? Si può andare agli eventi, si può commentare su LinkedIn. Abbiamo LinkedIn che adesso ci permette di fare rete un pochettino più velocemente. Si farete facendosi conoscere, quindi organizzo cose. Io organizzo live, per esempio, su YouTube, quindi in qualche modo mi faccio conoscere da colleghi, ma anche da potenziali aziende. Potreste scrivere delle guide sul vostro blog e quindi qualcuno potrebbe entrare in contatto con voi. Potete sicuramente andare agli eventi, partecipare all'open source, potete fare un sacco di cose per conoscere sviluppatori e conoscere trasversalmente anche aziende. Dovete lasciarvi in buoni rapporti con le aziende in cui avete lavorato, oppure se iniziate da zero dovete fisicamente andare agli eventi, andare a partecipare all'open source, alle community. Ci sono le community che organizzano mille cose. Se chiacchierate in un gruppo di 20 persone esperte, non lo so di React, mi viene in mente React perché conosco la React Community di Milano, che è molto attiva, capite che dire, ragazzi, ma conoscete qualche lavoro da freelance come sviluppatore React, perché sto cercando? È più facile quando siete in un contesto così specifico. E provare a moltiplicare questa cosa più possibile. Quindi la rete è sicuramente la cosa più importante che vi facilita in questo senso, perché affidarsi a terzi, come vedremo dopo, per trovare clienti, è comunque forse la cosa più difficile in assoluto. Nell'ultima fase, infatti, abbiamo comunque adesso delle competenze adatte a lavorare da freelance. Sappiamo che cosa cercare, perché abbiamo studiato il mercato. Siamo visibili come freelance. Abbiamo il nostro sito, abbiamo il nostro LinkedIn, parliamo, cerchiamo di far vedere che sappiamo le cose e conosciamo persone. Le abbiamo conosciute, abbiamo questa rete, ci scambiamo informazioni, ci sentiamo, eccetera. Quindi, come troviamo adesso? Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo cambiare il penarello. Questo non scrive più. Dobbiamo cercare clienti. Bene. Dove li cerchiamo questi clienti? La primissima cosa, il mio consiglio è puntare qua. E puntare alla propria rete. Soprattutto per iniziare, la cosa più importante, non si va più in giro a fare il sito web, non si va nei ristoranti con il sito web, ma si può fare anche quello, si può andare dagli amici, si può dire, ehi, tu hai questa attività, posso farti un sito gratis? Si può iniziare anche a fare cose gratis, e proprio non si ha niente, non si ha mai lavorato? Sì, si possono fare, si può mostrare un portfolio reale, creare progetti solo per studio, è bello, è utile, ma dà meno credibilità, quindi bisogna parlare anche di quello. In generale, però, dalla propria network, e parlo anche per esperienze personali, arrivano le cose principali. E, come vi dicevo, dovete saper fare marketing. Perché questo? Perché potete anche fare un sacco di comunicazione, un sacco di cose belle, essere bravissimi, dovete far capire che volete lavorare come freelance, che siete aperti a progetti, piccoli, corti, brevi. Il vostro nome deve spuntare quando si parla ad una riunione, di, ehi, ma ci serve un senior, una consulenza, ci serve, abbiamo un progetto piccolo, ehi, ma io conosco questo, che bravo, lo vedo sempre, in questo ambito specifico, quindi anche essere specifici. Aiuta, per esempio, comunque, ci sono un sacco di cose da tenere in mente, ma se non le raccontate, queste cose nessuno non le saprà. Quindi, aprirsi alla propria rete, ma a chiunque, come freelance, facendo del marketing, in questo senso. Niente vendita, ve lo giuro. E solo, in ultimo, metto piattaforme, siti, eccetera. Perché questo? Perché questa, che è la soluzione più facile. Tutti mi chiedono questo, vado su quel sito, mi dai siti, dove trovare lavoro da freelance, oppure appunto, come agenzie, come Toptal, o come Cosmico, di cui vi ho parlato. Sono situazioni in cui è più semplice. Qualcuno vi prende, vi direzionano i clienti, oppure piattaforme come Upwork, che vi danno direttamente degli annunci, anche brevi, meno brevi. E la soluzione è più semplice da una parte, ma è la più difficile. Perché è la più difficile? Perché c'è molta più concorrenza. Se pensiamo ad Upwork, che è sempre stato, o Freelance.com, questi siti sono sempre stati la cosa più comune, in questo ambito. Adesso sono molto, molto competitivi. Vi trovate a competere con tutto il mondo, che magari offre delle cifre più basse, e quindi diventa più difficile. Ho parlato in un altro video, che vi consiglio di recuperare, di realtà italiane, ce n'è di meno, ma sono comunque una soluzione. Però, onestamente, mi sento di dire, dalla vostra rete possono arrivare cose molto, molto più interessanti, anche collaborazioni più grandi, ma sulle piattaforme possono esserci comunque un sacco di possibilità. quindi ovviamente bisogna andare su tutto. Aggiungo anche un generico siti, siti jobs, tipo dove trovate annunci di lavoro normali, trovate anche annunci in realtà per collaborazioni da freelance. Io ho iniziato delle collaborazioni così, con annunci su LinkedIn, ma anche su altri siti. Succede, quindi andate, sfogliate, capite, se siete fortunati potete filtrare, e ovviamente questo vale soprattutto anche per siti all'estero, dove appunto potete selezionare magari da remoto, e magari come contractor. Ho fatto un video anche sui siti per lavorare da remoto. Quindi, materiale ce n'è. Bisogna poi andare su tutto. Però, ripeto, secondo me la rete continua a essere la cosa più importante. Ora però, prima di spiegarvi che cosa dovreste fare, secondo me, per ottimizzare queste fasi, il traguardo freelance è questo. Nel senso, appena avete dei clienti, potete aprire la vostra partita IVA, che magari non serve subito, non è neanche detto, fate i vostri contratti, iniziate a lavorare, e siete arrivati. Dove siete arrivati? Semplicemente a lavorare come, potete dirvi freelance, cosa è cambiato? Niente, adesso vi pagano, non avete dei contratti, non avete garanzie, ma il vostro traguardo è raggiunto. Questo gioco però lo continuerete per sempre. La fase II, la fase III continuano sempre. Cercherete sempre di fare branding, allargare la vostra rete, capire cosa dovete studiare, e cercare nuovi clienti, eccetera, eccetera. Quindi qua siete nel ciclo dell'essere freelance. Ah, il mio consiglio spassionato, nella fase II vi ho elencato quelli che secondo me sono le cose principali dell'essere freelance, quindi le competenze necessarie, capire il mercato, fare branding, e aumentare la propria rete. Questa fase II, la dovete portare il più possibile verso sinistra. Dovete portarla alla fase zero. Ti facciamo un bello zero. Perché questo? Perché aumentare le proprie competenze, è una cosa che potete fare immediatamente. Capire cosa cerca il mercato, lo potete fare subito, capendo di cosa parla la gente, capendo appunto gli annunci di lavoro, cioè potete fare queste cose. Il branding potete farlo stasera, aprite il vostro sito. Quante persone, so che vogliono iniziare, ma non trovano il tempo. Ragazzi, se non avete tempo, mi dispiace, ma dovete trovarlo. E la rete si fa andando, come vi ho detto, facendo tante, tante più cose possibili. Queste cose le potete fare qua, prima di licenziarvi, prima di mettere i soldi da parte, mentre studiate, cercando lavoro come dipendenti, se volete intanto lavorare, perché magari è più facile, potete fare più esperienza. Queste poi sono altri discorsi. Ma queste cose, questo core dell'essere freelance, si prende anche il giallo, cerchio dicendo core, queste cose sono le cose che vi permetteranno di poter fare qualunque cosa. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi, tra le skill, la più importante di tutte è l'autonomia. Dovete essere autonomi il più possibile. Da freelance avete meno persone che vi seguono, avete, magari la volete lavorare da remoto, bene, dovete essere in grado di partire in tempo zero, capire cosa vi viene detto, cercarvi le cose da soli, chiedere il meno possibile, ottimizzare le richieste, poi per carità. Però l'autonomia è fondamentale, quindi anche la propensione ad essere autodidatta è sicuramente un fattore da calcolare quando si decide di fare questo, perché è inutile dirvelo, ma non ve l'ha consigliato il medico di diventare freelance. Non è la soluzione a tutti i problemi, è un modo di lavorare, conosco un sacco di persone che non tornerebbero mai a fare freelance perché lo hanno già fatto, conosco un sacco di persone come me che invece sono contentissime di essere freelance, hanno quel grado di autonomia a cui non potrebbero rinunciare, ma dipende molto da voi, perché ci sono un sacco di cose da tenere in mente. Bene, io ho cercato di condensare un sacco di cose, lo so, fatemi sapere nei commenti cosa ho tralasciato, cosa non è chiaro, ovviamente di tutto questo parleremo, ma non solo, entreremo al dettaglio di soldi, contratti, di un sacco di cose nella Masterclass, se non siete ancora abbonati, correte, perché stasera potreste venire su Zoom in diretta, se invece è passato il 2 novembre, iscrivetevi perché avrete accesso comunque alla live e comunque sul canale Discord dedicato, potremo parlarne anche dopo, fare domande e vedere nel dettaglio delle cose che vi interessano e in più ci saranno poi appunto Masterclass sul nomadismo digitale e un sacco di cose che non posso spoilerarvi, ma sto creando per creare una roba veramente figa da fare insieme a me, insieme a voi dell'Academy, quindi grazie come sempre per aver visto il video, grazie a tutti i ragazzi dell'Academy per seguirmi in questa avventura della Jupydev Academy, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.